Che shock quel rapimento e che cifra quella richiesta di riscatto, 2 miliardi, alla fine le pagarono poco più di un quarto di quello che era stato chiesto ed era tanto in quegli anni 70 del secolo scorso, ma soprattutto perché rapire loro, proprio loro, Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi, Fabrizio De Andrè, il cantore di tutti gli ultimi, di tutte le bellezze incomprese dentro la nostra società, delle ingiustizie, capace del divertimento, capace della profondità, capace di amare la Sardegna come pochi, fino a scegliersela come casa lì a Lagnata, vicino a Tempio Pausania, lui trascinato a Hotel Supramonte, costretto a vivere da quel 27 di agosto fino a questo giorno di dicembre a cielo aperto, nell'albergo della montagna dove l'anonima sequestri confinava le sue vittime, ne nacque un disco straordinario due anni dopo, quello che abbiamo imparato a chiamare l'Indiano, dove c'è una canzone che si chiama proprio così, Hotel Supramonte, che dice la delusione e l'amore, l'amore per la Sardegna, un amore ricambiato che quei manigoldi, poi finiti in carcere, non hanno saputo incrinare.